No, sicuramente non sono delle Carbon X, due, ma sono scarpe leggere quindi davvero aiutano a correre forte e comunque a me piacciono perché sono reattive e ti portano a correre di avampiede, anche se non sono, ripeto, spinte come le Rincon. Una scarpa che è uscita un mese fa, stiamo parlando delle Mach 4 di Oka, davvero ci ha mostrato, io l'ho testata nei giorni scorsi, non ho fatto l'unboxing in diretta perché la zona rossa ce l'ha impedito, ma sappiate che oggi, dopo il fatto che Andrea è riuscito a fare il vaccino, siamo riusciti a vederci, abbiamo descritto assieme in dettaglio quali sono le caratteristiche di questa scarpa, le Mach 4 che sono l'ultimo modello lanciato da Oka all'inizio di marzo del 2021, scarpa che fondamentalmente rappresenta non soltanto la tradizione ma anche un'innovazione perché secondo noi, come anche già detto durante la presentazione Oka, è una rottura con il passato e al tempo stesso invece rappresenta la tradizione perché Mach è la velocità del suono e con questa scarpa, secondo me, riuscirete a correre davvero velocemente. Secondo alcuni questa scarpa rappresenta l'evoluzione per noi podisti amatori scarsi rispetto alla Carbon X2 che è la scarpa con fibra di carbonio, sappiate che fondamentalmente sono praticamente identiche a livello di foggia, nei prossimi giorni faremo una recensione dettagliata per confrontare le due scarpe completamente, sappiate però che qualche differenza sostanziale c'è nel frattempo arriva al mio mitico coniglio e c'è pure una differenza rispetto alle Rocket X delle quali parleremo nei prossimi giorni. Come al solito per vedere perché questa scarpa è veloce, reattiva e adatta a noi podisti amatori, soprattutto quelli evoluti, che corrono tantissimi chilometri, vediamo quali sono le caratteristiche e le specifiche funzionali. In primo luogo sono come al solito Drop 5, 29 mm nel tallone, 24 mm nell'avampiede, per le donne invece sono 27, 22, sempre Drop 5, 232 grammi nella versione US 9 maschile, 192 in quella femminile. Dal punto di vista della Tomaya stiamo parlando di un mesh ingenerizzato avvolgente, una scarpa che secondo me piacerà molto a chi vuole correre velocemente, ha un collarino che consente al piede di essere davvero bloccato e ben saldo al terreno, ha la solita forma a nido di rondine, solita nel senso che era già stata adottata nelle Carbon X2. A livello di intersuola c'è la famosa ProFly che si presenta nella parte superiore, mentre la parte inferiore è in eva, come al solito. Non troverete invece nel battistrada la presenza di gomma che invece è sostituita da questa eva, cosa che permette di ridurre il peso della scarpa stessa e al tempo stesso quindi di correre più velocemente. Per non appesantire la presentazione, comunque ho intervistato stamattina Andrea, con il quale abbiamo parlato in dettaglio della scarpa. Sappiate però che secondo me questa scarpa è davvero molto stabile, grazie al fatto che la conchiglia è al tempo stesso ben bloccata ma comunque morbida. Sappiate che ci ho corso più di 100 km e che comunque nei prossimi giorni faremo una recensione completa e di confronto rispetto sia alla Carbon X, sia alle Rocket X, sia invece a tutte le scarpe senza fibra di carbonio per permettervi di identificare qual è la scarpa che secondo noi possa rappresentare per voi podistiamatori la scelta migliore. Dobbiamo aspettare fino al 27 di maggio per stabilire se la crescita di OCA continuerà ma a questo punto OCA viene vista come il secondo marchio in Italia, almeno nei negozi, per scarpe da strada e come il primo marchio lato trail, di conseguenza la gamma si è espansa significativamente e quindi oggi è fondamentale scegliere la scarpa giusta se andate al negozio, otterrete una valutazione ben precisa. Per noi in effetti ci sono diverse scelte, l'importante è essere consapevoli ed ora lascio la parola ad Andrea che dal mio giardino di casa vi racconta questa scarpa, lo sentiamo. Poi nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni dettagliate. Ovviamente ne approfitto per augurarvi buona Pasqua, stay strong, correte al massimo delle vostre possibilità. Questo è comunque un momento davvero molto bello e sereno perché le temperature stanno cambiando. Mi raccomando, stay strong e ci vediamo alla prossima. Andrea, da un po' che non parliamo di Hoka, un mese fa sono uscite le Mach 4, le abbiamo testate già da qualche giorno, tu soltanto un paio di volte, cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao a tutti intanto, che non c'entra assolutamente niente con la Mach 2, avevo io, abbiamo saltato la 3 addirittura. Abbiamo saltato la 3 perché comunque la 2 era un po' tra virgolette deludente, almeno dal nostro punto di vista. Sicuramente ha superato gli errori di gioventù della Mach 2, al contrario di una Rincon mi sembra meno spinta e sembra quasi che non ti spinga in avanti. Diciamo che è la coppia della Carbon X2 senza il carbonio, come era la Rincon ai tempi con la Carbon X. Direi alla fine un'ottima scarpa, sicuramente non per fare i lenti, anche se a fine vita la potrei usare, è una scarpa da lavori più veloci quando non voglio sprecare le Carbon X2. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? A tutti oppure soltanto a una tipologia di atleta? Guarda, secondo me sono adatte ad atleti medio-leggeri, diciamo, comunque sotto i 70 kg, perché comunque avendo tanta para, comunque tanta gomma, diciamo, si schiaccia, cioè pesando 80 kg la schiacci davvero troppo e non hai nessun ritorno. Era un po' l'esempio che facevano con l'ammortizzazione di una macchina, le ammortizzazioni di una macchina su un camion, alla fine dopo non ammortizzano niente. Quindi secondo me è sicuramente una scarpa per pesi medio-leggeri, poi per il ritmo invece van bene più o meno a tutti i ritmi. Io le utilizzerei dai lavori al medio o ripetute lunghe in giù. Diciamo che secondo me fanno anche la loro porca figura sulle ripetute corte. Ma ti preoccupa il fatto che il coniglio ti sta mangiando la Rocket X oppure no? No, a me preoccupa che sta mangiando davvero tutto, c'è qualsiasi roba gli capitati io la mangio. Le Rocket, la scatola delle Rocket mi fa paura perché dopo farà i bisognini blu, però a vero. E invece sopra i 70-75 kg suggeriresti comunque le Clifton 7? Ma secondo me sì, te l'ho detto, io ho paura che davvero vengano schiacciate troppo e non diano quel ritorno di energia che invece danno per chi pesa un pochino di meno, quindi che hanno una corsa un pochino più dinamica. Io le utilizzerei anche per il lento, un po' come le Rincon 2, ma dai 500-600 km, però è una scarpa diciamo veloce. Abbiamo testato qualche settimana fa anche le Carbon X2, sappiamo che molti pensano che siano queste Mach 4 l'equivalente, cosa ne dici? L'equivalente senza fibra di carbonio? Ma io sono uno di quelli, quindi sono d'accordissimo, te l'ho detto un po' come la Rincon 1 con la Carbon X, questo uguale con la Carbon X2, mi hanno fatto anche il tallone simile e devo dire che secondo me fanno una buona scelta perché prendi una Carbon X2 per fare le gare e questa qua invece per fare gli allenamenti veloci, quindi secondo me ci sta, il coniglio è impazzito comunque. Peccato che non abbiamo una terza telecamera per inquadrare il coniglio, ma altrimenti è impazzito vero. Una delle cose che mi sono state chieste a livello di battistrada, diciamo la durata, se per quanto riguarda le Carbon X era abbastanza tra virgolette inferiore alle altre, soprattutto correndo in sterrato, di queste scarpe cosa pensi? Ma guarda diciamo che delle Carbon X tra virgolette ce le fregavamo poco perché alla fine sono scarpe che durano relativamente poco, quindi se il battistrada dura 300 km va anche bene, 400 o meglio. Questo invece io glielo chiederei in casa Oca perché il battistrada nero che di solito c'è sulle altre scarpe, quando viene consumato e si vede il bianco, ecco qua già stiamo consumando il bianco, non esiste la parte nera, quindi non esiste il vero battistrada, abbiamo praticamente questa intersuola che fa anche da battistrada, non ho capito la scelta, l'avevano già fatta anche sulle Mach 2, per dire sulle Rincon 2 c'era un po' di battistrada ma che poi si consumava anche lui subito, qua proprio non l'ha messo e dopo relativamente pochi chilometri già si stanno piallando, quindi su pista bianca diventano davvero estrucciolevoli. Ci sono delle condizioni sicuramente dove queste scarpe eccellono e altre forse dove è meglio avere qualcos'altro. Il problema è che eccellono adesso che aprile su asfalto sono perfette, ma immagino ad usarle a Trapani il 15 di agosto, credo che ti durino 10 giorni perché col caldo che c'è per terra si smangiano via di brutto secondo me. Siamo qui a testarlo tra qualche settimana. E invece a livello di velocità ho visto che hai fatto qualche scattino. Secondo te è equivalente alle Carbon X2 o un po' di meno? No, sicuramente non sono delle Carbon X2, sono scarpe leggere quindi davvero aiutano a correre forte e comunque a me piacciono perché sono reattive e ti portano a correre di avampiede anche se non sono, ripeto, spinte come le Rincon, ti fanno correre forte. Quindi adesso in condizioni di asciutto, su pista e su asfalto davvero ci riesce a correre forte. Secondo me è una scarpa ottima per fare davvero tutti i lavori, dal medio fino alle ripetute. Come ho detto prima, può essere un buon acquisto da fare e soprattutto, se posso dire, le Rincon avevano detto che erano delle scarpe non per tutti perché comunque affaticavano i polpacci a molti, queste evitano quel problema secondo me perché sono un po' meno buttate in avanti anche se il drop è più o meno uguale. Però, non lo so come dire, l'impostazione di corsa è un pochino diversa e sono meno estreme, tra virgolette. Bene, nei prossimi giorni faremo il confronto tra le varie scarpe, anche perché comunque c'è stato chiesto, varie scarpe Hoka, c'è stato chiesto qual è il range di utilizzo di ognuna di queste, adesso ce ne sono davvero tante. Io sono, anche se sono innamorato delle scarpe, ne farei quattro paio per ogni marca per non creare confusione, però vedo che ne stanno facendo uscire a chilate ogni marca e secondo me questa cosa crea un po' di confusione e anche per noi che ne dobbiamo provare un bel po' e Max che deve montare i video diventa un lavorone. Secondo te Andrea, qual è stato il miglioramento di queste Mach 4 rispetto ai modelli precedenti che invece sicuramente non sono più di tanto piaciuti a molti. Beh diciamo che la Mach 2 era nata come una scarpa da medio, forse da gara e io non riuscivo a farci più del lento, era davvero una scarpa come impostazione troppo, troppo scarpa da lento, quindi non riuscivo a spingerla, non riuscivo a sentire l'avampiede che graffiava il terreno, invece sembra anche più leggera, sicuramente hanno portato le migliorie della tua maglia e tutto e la scarpa è diventata un pochino più racing perché ti fa spingere in avampiede come vorresti da delle scarpe da gara, quindi sicuramente le hanno fatte diventare le scarpe per cui erano nati, c'è una scarpa veloce, cosa che la Mach 2 non era e invece questa lo è. Ah non so se hai detto qualcosa ma ai nostri seguaci piace che tocchiamo il tallone, questa è una conchiglia abbastanza importante rispetto alla Mach 2 che era inesistente, quindi anche questa cosa secondo me aiuta. Va bene grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, faremo assolutamente un buon confronto tra le varie tipologie di scarpe. Bene adesso posso salutare anche io. Ciao grazie Andrea, ci vediamo alla prossima.